Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Questo sarà un video estremamente veloce, mi avete già vista in questa miss Però sono andata a fare la spesa, a fare una mini mini spesa Per comprarmi il Kinder Bueno Cioè quella era la BD, sono andata a Lidl perché volevo comprare il Kinder Bueno Che non ho qui, però insomma vi faccio vedere le altre cose che c'è anche se stavo al supermercato Ho deciso di prendere Ah, un'altra cosa che non ho qui, questo video è un po' un disastro Tanto che il Kinder Bueno non c'è L'ho preso sia white che normale per il mio solito scarro settimanale E poi ho preso anche stevia dolcificante senza calorie Che sostituisco ormai da anni allo zucchero nel caffè E tanto il caffè è un gusto così forte che anche tipo qualcuno ogni tanto mi dice Eh ma si sente che è un po' amaro Il caffè è un gusto così forte che io non lo sento Cioè non sento altre cose, altre caffè E quindi l'ho preso alla Lidl, non l'ho mai preso lì Però costava un euro e quindi ho detto sai che c'è Visto che è un dolcificante costicchia comunque Proviamolo e vediamo di che qualità è Poi come altre cose ho preso sempre per lo scarro settimanale Che finirà, che ingrasserà veramente Però vabbè Comunque ho preso delle mini pizzette Mini pizzette, margherita Quante sono? Quattro? Sì, quattro le pizze Sul gelato, questa è solo la confezione Io già le ho messe nel freezer perché vanno 35 gradi Cioè non era, non potevo lasciarle fuori Poi ho preso giusto una di queste perché io le bevo Tipo un giorno sì, uno no E quindi finiscono Wild Power, Gong Strong Anche queste senza zuccheri, questa è quella a zero Sugar Free Energy Drink E mi ci trovo abbastanza bene Va bene, ho presa una Cioè tanto per Visto che mi trovavo lì Poi ho preso perché mi sono trovata Ho visto che c'era in offerta Tipo 1,99 euro 2 euro Una cosa così Questa qui che è pesca l'interina Queste sono le pesche lisce Quelle senza pelucchi, ok? Perché sono le mie preferite No, la mia preferita è un tipo di pesca La pesca nel sacchetto di Leonforte Che è un tipo di pesca che si trova in Sicilia Particolare perché in pratica Per non usare pesticidi o altro Si vengono racchiuse dentro i sacchetti A uno a uno manualmente Le pesche, ok? Però tolte quelle che sono proprio buone Un altro livello di pesca Tra le pesche più comuni Mi preferisco le tarine Perché hanno un gusto dolcissimo Succosissimo È come prendere a morsi un succo Non saprei come dirle Io le amo alla follia E le pagate appunto tipo 2 euro Un chilo ecco È un chilo addirittura Perché sono belle grosse E non lo so La pesca in assoluto È uno dei miei frutti preferiti E sono ossessionata un po' Dalla pesca come frutto Mi piace in tutti i suoi derivati Alcol, vodka Succhi di frutta Tè Tutto Energy drink Qualsiasi cosa Centrifughe Tutto A me la pesca piace in tutto Poi sempre perché li ho trovato offerta Ho preso 500 grammi di pomodorini Che in realtà non avrei dovuto prendere Perché sto per partire Già tipo 10 giorni E torno in Sicilia Quindi non mi servivano i pomodorini Però Dai alla fine si consumano Spero Sono questi Li ho pagati tipo 1 euro e 10 1 euro e 20 Quindi Molto poco Li ho presi per questo Certo Ancora Avevo da finire quelli di prima Ma Di certo Non butterò il cibo Quindi Cercherò di Mangiarli Devo andare un po' Ad esaurimento scorte Perché Tra poco parto Appunto E dovrei evitare Di mangiare cose surgelate Tipo la carne surgelata Che mi metto lì a scongelarla Non ha senso Ha più senso Che mi mangio le cose fresche Che ho in frigo Che si fanno brutte A questo proposito Sempre perché io sono deficiente Ho preso anche le uova Ma era un'offerta E non so registrare le offerte Anche queste 6 uova Le ho pagate tipo 1 euro e 20 Dai E sono uova E sono uova Da levamento a terra Non sono A levamento All'aperto Però Era un'offerta Ed erano comunque Levati a terra E quindi ha detto Passiamoci super E sono molto contenta Perché me ne rimanevano Solo 82 Di uova E A me Mi piacciono le uova Cioè Nel senso In realtà Mi piacciono Tipo le frittate Così Però light Senza Senza Olio Senza niente Praticamente uovo E parmigiano Vengono buonissime E ci fai un pasto E quindi Cioè Prima le uova Sono una delle cose Che compro sempre E tengo sempre a casa A oggi Fun fact Che non interessa a nessuno Ho trovato Ho visto Per la prima volta In un negozio Le uova Vegane Cioè Quelle che vedi tipo Nei video Selle ricette vegane Che ti dici sempre Ma la gente Dove Cribbio Le compra Non so se avete presente Quelli tipo Con la carta gialla Che hanno Questa stessa forma Il pack Con la carta In cartone giallo E tipo Una gallina Disegnata Stilizzata davanti Io le vedo su tiktok Nelle ricette E mi sono sempre detta Ma La gente Tipo quelli che fanno La carbonara vegana E roba del genere Mi sono sempre chiesta Ma La gente Dove le trova Perché io al supermercato Non le ho mai viste Né da Carrefour Né Lidl Né Conad Né Deco Cioè Da nessuna parte E Oggi le ho viste All'ODS Costavano Un furto Ma un po' Qualsiasi cosa Costava un furto All'ODS Ma le ho viste Costavano tipo 7 euro Una cosa del genere Che è tanto Però riconosco Che magari Cioè se sei vegano E Ti piacevano le uova Cioè Perché ovviamente Per molti È una scelta Etica Non una scelta Dovuta Ai propri gusti Ecco E quindi ci sta A voler ricercare Quel tipo di Sapore Però Ecco Costava un furto Vabbè ma è anche Il negozio Che ha prezzi Un po' alti Vabbè Oltre questo Io non ho altro Da dire Non le ho comprate Perché 8 euro Onestamente Anche no E poi Non sono Vegana E Fa niente Non ho altro Da dire Credo Cioè ma io Ho qualcosa Da dire Infatti non voglio Concludere questo video Perché mi sento Che manca qualcosa Ma Non me lo ricordo Ah Ogni tanto Io mi rendo conto Ne sono consapevole Che si sentono Le bì Molto forti Con questo microfono Ma io Non ho Una copertura Da metterci sopra Non l'ho mai comprata Perché già Il lui è di costicchia Quindi non mi sono messa A comprare anche Accessori Di alcun tipo Quindi Insomma È inutile Che mi dite Che si sente Non ho Molto da farci Mi dispiace Come vi ho già detto Altre volte Se proprio Volete lamentarvi Regalatemene una La trovate Nella wishlist Di Amazon Che sta sempre In descrizione Ma Penso che Giusto Visto che è giusto Qualcuno Ogni tanto Si lamenta Non penso Sia un problema Cioè magari Dando un po' fastidio Ma comunque Fattibile Ecco Sembra rilassante Spero che sia così Almeno Spero che questa cosa Che ho detto Non mi faccia Avere dei nemici In più Vabbè E niente Io vi saluto Vi ringrazio Per aver scelto Di guardare questo video Che spero Vi abbia rilassato Vi sia piaciuto E vi abbia intrattenuto E vi dico Che ci vediamo direttamente Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti